Alle mie spalle lo stabilimento della vecchia pineta e davanti a noi la stazione, vedete tre camper guardate adesso vi faccio vedere questa sera un diciamo problema tra virgolette perché comunque è un problema se è così che riguarda l'emergenza abitativa ostia perché soprattutto da questo lato cioè allevante di ostia c'è da qualche tempo questo fenomeno delle roulotte, dei camper che sono ferme tutto l'anno in queste posizioni in cui le state vedendo vedete qui ce ne sono altre due e poi girando da questo lato adesso andiamo a fare il giro per farvi capire che insomma non è una cosa limitata a due o tre roulotte ma se ne contano addirittura il numero di 40 nella loro totalità adesso giro un attimo qui per farvi capire ecco qui ce ne sono altre e poi andando più avanti poco più avanti qui siamo davanti alla piazzetta Belvedere Carosio tristemente nota per essere stata recintata con quella orrenda rete arancione ecco guardate qua adesso girando ne contiamo ancora altre allora quello che non si capisce è il perché queste roulotte stanno qui perché se davvero questo è un problema ma lì davanti proprio sulla piazzetta Belvedere Carosio intanto altre due che si possono vedere da qua ma dicevo bisognerebbe capire realmente, realisticamente il perché queste persone vivono in queste condizioni perché a queste persone non viene data una possibilità diversa quanto meno di avere una sorta di area recintata e attrezzata per poter appunto fare questo tipo di vita perché certamente non sarà un tipo di vita che hanno scelto ma sarà un tipo di vita dettato da condizioni economiche magari svantaggiose e quello che sorprende di più è il fatto che ci sono delle aree veramente enormi anche andando più là, ancora più a Levante verso la parte per capirci dove sono gli stabilimenti balneari di Lungomere Vespucci dove ci sono delle aree di parcheggio che attualmente non risultano in concessione a nessuno e che potrebbero essere utilizzate a questo fine cioè dare una possibilità di avere un'area attrezzata magari non dico sorvegliata ma quantomeno attrezzata con il minimo necessario dei servizi a queste persone che purtroppo devono vivere il devono è obbligatorio perché insomma non è una scelta di piacere ma credo che sia una necessità devono vivere in queste condizioni adesso sto andando verso Piazza Sirio e vi faccio vedere che anche lì c'è la stessa cosa ecco arrivando in Piazza Sirio che è davanti come riferimento davanti allo stabilimento del Bel Sito anche qui c'è lo stesso discorso cioè nel piazzale antistante il parcheggio diciamo dove c'è l'area di parcheggio ci sono almeno una decina di camper guardate una cosa che non si riesce a spiegare il perché probabilmente c'è una ragione tecnica per cui poi stanno tutti nello stesso posto però ecco qua ce ne sono appunto una dozzina poi andando più avanti vedete non è che se io giro ancora di più l'inquadratura si notano ancora altre vetture ferme che stanno qui pure la notte perché poi siamo venuti a vedere erano qui pure di notte e poi andando ancora più là verso la parte diciamo di Ostia Ponente dove c'è il dove si va appunto la famosa curva di Piazza Magellano la chicane di Ostia ce ne sono ancora altre e lì il fatto risulta ancora più strano perché proprio in quel punto in quel punto spesso ci sono dei blocchi di polizia intanto qui a sinistra ce n'è un'altra e poi proprio qui dove di solito c'è il le autorità diciamo fanno i controlli sul territorio come è giusto e lecito che facciano però proprio qui solitamente stazionano queste due tre roulotte con tanto d'antenna insomma ferme proprio fisse non è che sono di passaggio come qualcuno può pensare in più ogni tanto dentro la piazzetta antistante Piazza Magellano dove si parcheggiano le macchine ancora altri camper eccoli là altri due questa sera ma magari più tardi ne verranno altri ma magari più tardi ne verranno più Grazie.